ok ragazzi ci dovremmo essere dovremmo essere live datemi un feedback se mi sentite e se mi vedete bene così almeno possiamo iniziare intanto che si collegano un po di persone che vedo che siete in tantissimi infatti so che ieri sera alcuni di voi hanno avuto problemi con la connessione comunque vedevano un po a scatti e questo ci sta perché come avevo già anticipato lo dico per chi magari si è perso questo pezzo già la piattaforma che utilizziamo è pesante di per sé in più con tante persone connesse siete veramente in tantissimi se non avete una buona connessione vi perdete dei pezzi ok quindi piuttosto mettetevi in un luogo in cui prende bene staccate un po di dispositivi dal wifi ok se siete a casa avete un po di dispositivi connessi di modo che la linea sia più possiamo dire fluida ok bene io direi che possiamo iniziare benvenuti a tutti in questa seconda serata di freebooter revolution un qualcosa che come abbiamo già visto in parte ieri sera ma ancora non abbiamo visto nulla di ciò che è realmente questa opportunità che voi state cogliendo sul nascere come dicevo è un qualcosa che rivoluzionerà le sorti del business online è un'innovazione assoluta che permette anche a chi altrimenti non potrebbe di ottenere comunque risultati facendo un'attività online perché abbiamo visto ieri sera infatti andiamo subito a fare un recap di quanto visto ieri sera che cosa abbiamo visto che fare un'attività di cash cow per chi ha gli manca o comunque gli mancano tutte e tre le risorse che abbiamo visto o gliene manca anche solo una o ne ha poca di una delle tre risorse che abbiamo visto essere tempo soldi e competenze è difficile che possa ottenere risultati invece grazie a questa innovazione che è il freebooting che non è nient'altro che l'intermediazione come vedremo tra poco e come già anticipato ieri sera puoi comunque ottenere risultati cosa che non potresti se non ci fosse questa innovazione per questo si dice innovare no rendere possibile qualcosa che altrimenti non sarebbe possibile questo è un po il concetto di base abbiamo visto quindi che fare un'attività di cash cow è un po la soluzione ok per il discorso del double spending problem eccetera perché con un'attività di cash cow puoi spremere soldi senza utilizzare il tuo capitale perché guadagni soldi senza utilizzare altri soldi questo è un po il concetto che abbiamo visto ieri ok quindi riassumiamo un attimino che cos'è il freebooting in breve chi è il freebooter che cosa fa il freebooter e soprattutto perché è così tanto semplice e profittevole fare il freebooter perché si va a sfruttare quello che è l'intermediazione digitale questa parola che avrete già sentito più volte soprattutto se siete già dentro ad uno dei miei percorsi ok però piccolo mentre che sto parlando dei miei percorsi apro un piccolo capitolo se siete all'interno di drop service che è uno dei miei percorsi ciò che vedremo ha sempre a che fare con l'intermediazione perché di fatto fare drop service è comunque fare l'intermediazione digitale ma fare il freebooter non c'entra nulla fare il freebooter è ancora più semplice che fare drop service se già drop service è un'attività semplicissima di per sé perché sfrutta l'intermediazione digitale il freebooter lo è ancora di più ok però entreremo nel vivo di questo successivamente intanto volevo dire questa cosa per qualcuno che ha fatto delle domande ieri e quindi volevo rispondere già stasera ok anche se poi lo approfondiamo però fare l'intermediazione digitale cosa vuol dire vuol dire fare da tramite tra chi necessita di un servizio e chi invece lo offre proprio per questo motivo quindi se qualcuno si è domandato ma come mai non serve saper fare marketing non serve saper vendere non serve metterci la faccia non non devi creare un prodotto non devi vendere niente come è possibile guadagnare così tanti soldi questo è un po il concetto di base perché facendo l'intermediario come ho detto ieri sera si sfruttano le competenze sfruttano una parola che può sembrare brutta ma di fatto c'è qualcuno che ha già delle competenze perché io devo apprendere anche io quelle competenze quando posso sfruttare quelle di qualcun altro questa è la mentalità imprenditoriale ok sfruttare le competenze altrui ha proprio vantaggio ovviamente anche lui ci guadagna ok quindi è un win to win tutti vincono ok quindi l'intermediario sfrutta le competenze di altre persone il tempo delle altre persone ha proprio vantaggio per guadagnare ecco perché non ti servono competenze ecco perché non ti serve non ti servono soldi e ecco perché non ti serve tempo perché utilizzi quello degli altri perché sono altri come c'è scritto qua c'è scritto fare da tramite tra chi offre produce possiede un servizio un prodotto con chi lo compra quindi sono altri che creano un prodotto che si occupano di erogare un servizio che fanno tutto ciò che hanno un'azienda e tutte le cose dell'imprenditoria tu fai solo da tramite tra chi necessita e chi offre ieri sera ho fatto l'esempio di amazon paypal stripe rental cars trivago booking non possiedono case macchine hotel ma fanno da tramite tra chi vuole il servizio e chi invece lo offre ok e fatturano miliardi e io per farvi un esempio no per farvi capire un esempio che non c'entra con il fare il freebooter ma per farvi capire il concetto è un po come se tu conoscessi una persona che vuole uno yacht ok quindi conosci una persona che vuole comprare uno yacht oppure non la conosci ma quella persona arriva da te e ti dice voglio comprare uno yacht tu hai il contatto di un'azienda o prendi il contatto di un'azienda che vende uno yacht questa persona compra lo yacht dall'azienda tu hai fatto da tramite magari lo paga 100 milioni o facciamo un esempio 10 milioni e tu hai il 3 per cento di commissione e porti a casa 300 mila euro hai dovuto creare lo yacht no sai come si creano gli yacht come si vendono gli yacht no hai fatto da tramite hai usato soldi tuoi no perché il cliente che ha comprato è l'azienda che ha tutti i suoi rischi tu hai fatto solo da tramite ecco facendo il freebooter tu fai questa cosa sfruttando però un un possiamo dire un meccanismo che poi vedremo che è quello del postare contenuti che creano altri e fai in modo che siano le persone che necessitano un servizio a venire da te da te non sei tu che vai a cercare le persone di proponendogli un prodotto un servizio sono loro che arrivano da te che hanno necessità di un prodotto un servizio e poi lo comprano da un'azienda terza e tu ci guadagni da questo scambio questo era un po per spiegare il concetto in breve a chi non dovesse conoscere l'intermediazione e aveva qualche dubbio di come come funziona questo scambio no ecco questo è ma ovviamente poi vedremo nello specifico come funziona il freebooting come si fa l'attività e com'è possibile che postando dei contenuti puoi guadagnare facendo l'intermediario ok benissimo in questo evento vedremo anche dei casi studio reali miei personali con tanto di nome dei casi studio dati e cose verificabili di qua ho scritto ti mostrerò perché ci sono persone che grazie al freebooting mi pagano anche 100k o 30k ho scritto una frase per farti capire il concetto anche se è una frase forte per non fare quasi niente poi capiremo il perché infatti ho scritto so che sono parole forti ma dopo capirai il perché di tutto questo grazie all'intermediazione grazie al freebooting e vedremo dei casi studio ok infatti vedremo anche questo caso studio che ti sto mostrando all'interno della slide lo lo approfondiremo benissimo ma ora ieri sera mi sono presentato brevemente dicendoti poi ci conosciamo meglio no perché tanti di voi si ritrovano qui che già mi conoscono già hanno fatto dei percorsi già hanno ottenuto dei risultati e quant'altro e ci sono invece altre persone che non mi conoscono ok e dovete capire dei concetti che vi sto per spiegare perché se no non capite tutto il resto di ciò che vedremo stasera di ciò che vedremo domani sera quindi vi spiego un attimino come sono arrivato a scoprire l'intermediazione il freebooting che cosa ci sta dietro di modo che poi in modo più semplice capiate anche i discorsi successivi ok del freebooting altrimenti vi saltate dei pezzi e vi mancheranno dei tasselli quindi questa ascoltate attentamente questa parte perché vi aiuterà a capire che cosa ci sta dietro bene qua ho scritto appunto come già dicevo ieri sera record europeo che ho raggiunto con facendo l'intermediario ok poi vedremo meglio milionario self-made prima ad aver portato in Europa il modello del drop service del freebooting ok quindi questo concetto di intermediazione che all'estero è un concetto già molto diffuso invece qua nel mercato possiamo dire italiano europeo è un qualcosa che mancava ok bene ora il discorso come molti di voi già sanno non è che sono arrivato qui infatti ho scritto nella slide tu mi conosci oggi che ho raggiunto determinati risultati ma chi era niccatal di prima che cosa faceva è nato in questo modo era agevolato è arrivato da una famiglia ricca gli sono piovuti i risultati dal cielo no io all'età di 18 anni anzi già all'età di 13 anni 12 anni facevo box ok iniziato quando ne avevo 11 più o meno facevo box e diciamo che è ciò che mi piaceva realmente e ci vedevo un futuro in quello perché fondamentalmente non avevo competenze arrivavo da una famiglia comunque che mi ha dato quello che poteva darmi perché ho sempre vissuto con mia madre e i miei cinque fratelli ok siamo in cinque fratelli e diciamo che fondamentalmente mia madre ha sempre fatto l'operaia non è che mi ha insegnato ho trasmesso delle cose legate all'imprenditoria eccetera io non avevo competenze e non sapevo neanche che fosse possibile guadagnare x soldi o arrivare a raggiungere dei risultati che oggi quindi i risultati che oggi io me li sognavo non ci avrei neanche pensato non pensavo neanche che fosse possibile arrivare a raggiungere determinati risultati e vivere una vita di un certo tipo pensavo che la vita fosse andare a lavorare prendere un buono stipendio ok anzi studiare avere delle competenze scolastiche e il classico il classico percorso che si sa insomma che molti di voi sicuramente avranno vissuto in prima persona ecco diciamo che io non volevo quello lo avevo già capito e dicevo io voglio ottenere risultati nella box voglio diventare un campione in questo un professionista e cambiare la mia vita così quindi ho lavorato tantissimo perché comunque ci credevo mi piaceva e ci vedevo anche un futuro in quello che stavo facendo finché un giorno diciamo che ho scoperto di avere un problema un problema grave che mi avrebbe portato diciamo ad avere una vita diversa da quella che stavo vivendo in quel momento perché non avrei più potuto fare attività sportive avrei dovuto calcolare bene quello che facevo con il mio fisico perché ho scoperto di avere il morbo di pertes che è diciamo una malattia che viene a una persona su centinaia di migliaia che ti porta ad avere un problema sostanzialmente al alla testa del femore ok e quindi questo in alcuni casi ti provoca un sacco di dolori eccetera e devi fare delle operazioni e quindi mi sono dovuto bloccare cioè in quel momento mi è caduto completamente il mondo addosso perché ho detto ho pensato bene ci vedevo un futuro in quello che stavo facendo questo non potrà mai essere non potrà mai essere perché ho scoperto di avere questo problema quindi mi è arrivato addosso come io dico in diversi video come un muro a 300 all'ora perché è stato così fondamentalmente e quindi in quel momento quando ho scoperto di avere questo problema che comunque non era un problemino che dici vabbè si risolve ci stai un attimo dietro devi fare un po' di visite un po' di cose no quello era un problema che mi avrebbe cambiato la vita per sempre cioè non si sarebbe mai risolto non è una cosa che si può risolvere puoi mettere delle protesi però ero troppo giovane per mettere delle protesi quindi non c'era soluzione c'è l'unica soluzione era aspettare ovvero quando finisci la crescita valutiamo quando sarà il momento di operarti quindi fondamentalmente devi vivere con i dolori che ti verranno mi hanno anche un po' spaventato in quel momento perché mi hanno detto vivrai notti in cui non riesci a dormire per i dolori che avrai ok perché adesso non sto qua a spiegare il problema nello specifico voglio farvi capire il concetto voglio farvi capire che io parto veramente da sotto zero oggi sono arrivato a raggiungere questi risultati ma non è un qualcosa che ho schioccato le dita e ho detto ok oggi vivo questa vita e non me ne sono neanche reso conto di come di come ho fatto cioè c'è stato un percorso e quindi comunque quando ho scoperto di avere questo problema ho capito che non avrei più potuto neanche fare il cameriere che fino a quel momento perlomeno mi dava da mangiare ok perché andavo a fare questo lavoro facevo all'inizio gli extra il sabato sera la domenica sera e mi guadagnavo giusto i soldi per pagarmi le spese per mantenermi perché mia madre comunque facendo l'operaia non è che poteva mantenere anche me aveva già da pagare le cose per i miei fratelli aveva già da mantenersi mantenere comunque una famiglia da sola e io dovevo mantenermi da solo ok fin fin da prestissimo e quindi sostanzialmente sono arrivato a ad abbattermi perché comunque ho detto cosa cosa faccio cioè qua ho messo l'immagine del posto in cui lavoravo questo l'hotel splendide royal di lugano e io lavoravo in hotel del genere ok però sì ecco un'esperienza che vi posso raccontare che vi posso condividere che effettivamente mi ha aiutato in quella situazione è che essendo che facevo il cameriere in posti di lusso come questo perché questo hotel qua che vedete hotel splendide royal è un hotel che ha vinto miglior servizio al mondo 2016 o 2017 non ricordo e quindi comunque un posto extra lusso ok ho lavorato al palazzo mantegazza principe leopoldo il the view insomma in un sacco di hotel e di posti dove venivano multimilionari miliardari gente a mangiare in elicottero e quindi lì ho iniziato a chiedermi ok io so che non posso fare il cameriere perché prima o poi dovrò smettere perché con questo problema so che non posso farlo per chissà quanto tempo perché già sentivo fatica a fare quel lavoro ok però vedevo quelle persone multimilionari miliardari e sentivo certi discorsi e dicevo ma perché io sono qua che devo servirli fare lo schiavo perché parliamoci chiaro fare un lavoro tradizionale del genere poi anche servire un lavoro umilissimo c'è anche a chi piace ma io sto parlando della mia esperienza personale mi sentivo uno schiavo perché di fatto che cosa cambia dagli schiavi di un tempo e gli schiavi di oggi gli schiavi di un tempo avevano vitto e alloggio e quindi vivevano dove lavoravano per il proprio padrone oggi forse ancora peggio perché andavo a lavoro si è vero guadagnavo bene ma avevo la macchina da pagarmi io personalmente con i soldi che guadagnavo il viaggio per andare là tutti i giorni e tornare indietro in italia l'affitto questo e l'altro alla fine era come fare lo schiavo e quella cosa mi pesava perché dicevo cavolo vedevo un futuro un cambiamento nella box e questo non è avvenuto perlomeno so che non voglio fare questa vita perché io so che se rimango qua a fare il cameriere so quale sarà il mio futuro non ci sono dubbi so che se rimango qua a fare il cameriere non è che può piovermi dal cielo qualcosa che mi salva e mi dice tieni da oggi cambi la tua vita no sapevo che da lì se avessi fatto sempre il cameriere dopo 30 anni il mio futuro lo vedevo già perché c'erano miei colleghi di 45 50 anni che facevano quella vita quindi io sapevo che cosa mi avrebbe aspettato ma il fatto di vedere quelle persone così ricche da una parte in quel momento mi faceva male perché mi faceva stare male ma mi ha svegliato perché ho detto è possibile ci sono persone che vengono qua a mangiare in elicottero come è possibile che io sono qua a servirle ci saranno delle opportunità quante persone sono partite da zero così ho preso una decisione una decisione molto drastica che personalmente capisco se c'è qualcuno che non prenderebbe mai una decisione del genere ma io l'ho presa perché ero disperato ovvero la decisione di dire lascio tutto mi licenzio non sapevo quale sarebbe stata l'opportunità che mi aspettava non lo sapevo perché non è che è come oggi che tu oggi sei qui davanti a me a prendere dalla mia esperienza e hai un'opportunità davanti i tuoi occhi da poter sfruttare sotto le tue mani no io ero lì che dovevo guardarmi in giro e capire effettivamente che cosa si potesse fare offline ho detto apro un ristorante apro un bar cosa faccio ero senza soldi sì avevo 10 15 mila franchi messi da parte ma che cosa ci fai fondamentalmente è vero avevo già un bel lavoro perché la mia famiglia mia madre mio fratello e altri amici dicevano nick ma stai lasciando il tuo lavoro che hai solamente 18 anni guadagni 3500 franchi al mese ci sono persone che anche a 40 si sognerebbero uno stipendio come il tuo e tu lasci il lavoro sì perché non ero felice di fare quello che c'era da fare anche se ne avessi presi 5 al mese non sarei stato felice perché come dicevo ieri sera per me la ricchezza è sempre stata legata al tempo cioè se tu sei lì al lavoro tutto il giorno e fai una cosa che non ti entusiasma non sei felice di farlo non vivi bene ok avrei preferito guadagnare gli stessi soldi stando dove dicevo io quando dicevo io così lasciai tutto e andai qua ho messo diverse foto questa è la mia ragazza che comunque diciamo in questo percorso è stata con me sin dall'inizio ok perché anche lei diciamo voleva con me un futuro diverso e comunque ha vissuto con me il problema della malattia ha vissuto con me il fatto che volevamo cambiare la nostra vita vivere in modo diverso non siamo mai stati ragazzi che andavano a ballare il venerdì il sabato sera e festeggiavano no perché diciamo il fatto della malattia mi ha cambiato completamente perché dicevo io ho questo problema e posso anche far finta di niente ma ce l'ho ok che cosa posso fare nella mia vita posso divertirmi far finta di niente no ho questo problema voglio perlomeno vivere una vita diversa dagli altri e quindi mi sono messo sotto lei lavorava al mcdonald come in questa immagine potete vedere e così ci siamo buttati a fare network marketing che per molti di voi è una parola che magari non conoscete il network marketing è una delle attività che che ci sono online un po più sentite secondo me ed è un'opportunità accessibile a tutti ma che è molto complessa molto lenta e non è semplice ottenere risultati infatti io insieme alla mia ragazza ci siamo messi per un'estate intera mi ricordo quando avevo 18 anni quindi parliamo di sette anni fa quasi otto e sostanzialmente abbiamo passato tutta l'estate a fare quell'attività a voler iscrivere persone a voler iscrivere persone parlare con un sacco di persone ogni giorno per portarle dentro a questa attività ci siamo impegnati molto per arrivare a guadagnare quanto 300 400 euro 500 euro ma quei soldi erano tutti soldi che poi andavo a rimettere in benzina per andare a fare degli appuntamenti per incontrare persone cioè erano il nulla con un impegno talmente grande che quei soldi non valevano niente ok e quindi ci siamo buttati adesso qua ecco diciamo che qua c'è un'altra immagine ad esempio questa dopo quattro ore di meeting siamo super positivi questa è un'immagine che ho preso da instagram e per farvi capire no perché in quel momento io ci credevo era un ennesimo opportunità che avevo avuto davanti e pensavo questa sarà finalmente il mio punto di cambiamento e poi non era così avevo i miei familiari le persone che avevo intorno che dicevano vedi ma che cosa stai facendo ma vai a fare un lavoro serio vai a fare qualcosa di serio che cosa ti sei messo a fare stavi guadagnando 3500 euro come cameriere e adesso che cosa guadagni sei senza soldi non hai neanche i soldi per pagarti la benzina ricordo che ogni tanto addirittura me li prestava la mia ragazza perché comunque lei continuava a fare il lavoro al mcdonald in quel periodo perché diceva ok tu concentrati su questo io intanto continuo a fare il lavoro al mcdonald e poi quando troviamo qualcosa che effettivamente ci dà da guadagnare poi lo lascio anch'io e quindi quell'estate lei lavorò tutta tutti e tre i mesi quattro i mesi e intanto facevamo network marketing questi erano alcuni messaggi che ci scrivevamo diciamo per per darci carica perché comunque in quella situazione sicuramente ci voleva e poi arrivò il primo business ok vedevo tante opportunità online era il periodo dei primi guru che c'erano online io ho visto il primo guru che diceva vendi semplici prodotti su amazon e guadagna soldi ok in che senso a amazon che bella opportunità mi sono messo a studiare ho approfondito ho detto cavolo questa sembra realmente una bella opportunità si devono investire pochi soldi può farcela possono farcela tutti tutte ste robe qui quando invece che cosa è successo vedete qua che c'è un prodotto che è un sostanzialmente è un paraspigoli e poi c'è quella scimmietta che si attacca alla porta perché anche quello è un paraspigolo per intenderci e vedete che sul sul pacchetto c'è scritto panic perché quella era una delle società che abbiamo utilizzato per fare amazon fba e per fare e commerce che abbiamo aperto no ci fecimo prestare 10.000 euro dal padre del della mia ragazza di andrea sostanzialmente per per iniziare a fare l'attività abbiamo iniziato e sembrava tutto bellissimo abbiamo detto questo cioè avevo detto questo è finalmente ciò che cercavo abbiamo iniziato e abbiamo fallito te la faccio breve abbiamo fallito ho fatto vedere anche dentro al canale telegram non so se sei all'interno tutta la merce che abbiamo accumulato tra tentativi e fallimenti nel fare amazon tentativi e fallimenti nel fare e-commerce abbiamo lanciato prodotti brand tipo cara cosmetic abbiamo lanciato un sacco di cose e non hanno funzionato infatti abbiamo i pacchi lì pieni di merce abbiamo lanciato poi dopo che ci siamo accorti bene amazon fba fallimento totale e-commerce fallimento totale perché non avevamo soldi e c'era in quel periodo l'ho raccontato anche ieri un ragazzo che aveva iniziato come me a fare amazon fba ma lui a differenza mia essendo che era ricchissimo di famiglia cioè diciamo i suoi genitori stavano veramente bene ha buttato 20 30 40 mila euro su amazon e poi ha trovato il prodotto giusto e gli è andato bene poi ha guadagnato abbastanza con quel business no io no perché non avevo quella possibilità di buttare decine di migliaia di euro su decine di migliaia di euro finché non trovi la cosa giusta e poi ha guadagnato tipo 15 vabbè insomma non mi ricordo esattamente quanto però ha portato a casa i risultati con questo cosa voglio dire è stata quella una conferma a distanza di tempo che mi ha fatto pensare vedi il fatto di avere denaro fa la differenza perché se tu puoi permetterti di buttare un sacco di soldi sei multimilionario e investi qua e la magari 10 attività ti vanno male trovi quella che ti va bene no è ovvio perché se butti soldi qua e la sapendo che il 90 per cento delle attività nel primo anno falliscono ne apri 10 probabilmente una su 10 ti va bene no questo è un po il concetto e quindi una volta capito questo ci siamo messi sotto abbiamo aperto un'agenzia di social media marketing che cosa facevamo nella fattispecie offrivamo servizi alle aziende gli portavamo clienti ma stavamo dietro tutto il giorno e ci facevamo pagare 3 4 500 600 700 euro dalle aziende per portarli clienti vedete qua che ad esempio c'è un'agenzia qua si vede si vedono delle macchine abbiamo provato a collaborare con aziende in diversi settori abbiamo creato un piccolo team eccetera ma alla fine ci siamo ritrovati che guadagnavamo quattro spicci e avevamo un sacco di ansia nel seguire questi clienti nel starli dietro nello starli dietro perché comunque il sabato e la domenica ti scrivevano ti scrivevano alla sera sempre e ti pagavano due lire e quindi quella non poteva essere la soluzione non poteva esserlo perché stare lì incollato sullo schermo a lavorare dovevo apprendere un sacco di cose ho dovuto imparare a usare il computer che non mi piaceva a me personalmente usare il computer non mi è mai piaciuto la vedevo un po una cosa da nerd no non so se anche tu quando quando andavi a scuola c'è il fatto di usare il computer era un po una cosa da gamer da quello che stava tutto il giorno chiuso in casa sociale e quindi mi sono pure dovuto mettere imparare a usare il computer che non ho imparato perfettamente ma in quel periodo lo utilizzavo ok poi ho scoperto grazie a questa possiamo dire grazie a questa esperienza del fare social media marketing e lavorare per aziende sotto l'aspetto del marketing ho scoperto l'intermediazione in che senso nel senso che ti ho spiegato all'inizio di questa live che fare l'intermediario vuol dire fare da tramite tra chi necessita di un servizio e chi invece lo offre ma non hai bisogno di competenze non hai bisogno di saper fare marketing e non hai bisogno di investire soldi perché fai da tramite tra chi necessita con chi offre io ho scoperto questa cosa per caso perché perché sostanzialmente ci siamo ritrovati con un'azienda con un imprenditore che ci ho detto guardate a me piace quello che fate facciamo così fate il marketing per la mia società portatemi clienti una volta che mi portate i clienti io vi pago una percentuale così abbiamo detto beh ci può stare in effetti se li portiamo 1 2 3 4 5 clienti e ci paga una percentuale guadagniamo di più lavoriamo di meno abbiamo meno collaborazioni deleghiamo tutto quanto e diciamo sembra molto più sensata come cosa però ovviamente ero un po scettico perché dovevo ancora provarlo bene siamo partiti a collaborare con questa realtà e lì c'è stato il cambiamento vero perché se abbiamo sempre guadagnato x soldi al mese lavorando tutto il giorno lì abbiamo iniziato a delegare perché con la prima società sono arrivati primo mese 1500 euro secondo mese 2008 terzo mese e così via no sempre a crescere però il lavoro rimaneva uguale perché avevamo fatto il lavoro una sola volta e continuavamo guadagnare non continuavamo a fare il lavoro per dover guadagnare non so se mi spiego a differenza del social media marketing dove dovevamo continuare a star dietro a tutte le cose dovevamo soddisfare il cliente dovevamo magari migliorare l'aspetto creativo dovevamo fare un sacco di lavori mentre là avevamo delegato l'intera campagna c'era qualcuno che la gestiva arrivavano clienti all'azienda con cui collaboravamo e con l'azienda ci riconosceva una percentuale per ogni cliente che arrivava così abbiamo iniziato a scalare a prendere più collaborazioni e vediamo se l'ho messa qui la slide eccola qua adesso ve ne parlo e così con una delle prime aziende con cui abbiamo iniziato a collaborare sono arrivati dei risultati grandissimi straordinari nel senso che questo caso studio che vi ho messo qua che si chiama restaurare conviene è un'azienda che quando abbiamo iniziato a collaborarci fatturava 200.000 euro l'anno ok quindi 20.000 euro al mese facendo che cosa restaurando le persiane facendo un lavoro semplice perché vi sto mostrando questo caso studio per farvi capire anche nei settori più impensabili questo business ha funzionato ma non è attenzione ciò che ti sto spiegando non è il freebooting nel nel suo nella sua possiamo dire interezza ok è il meccanismo ciò che devi a cui devi prestare attenzione questa è la cosa importante è un passaggio importante quindi prestami attenzione a quello che sto per dire questa azienda qua fatturava 200.000 euro noi ci abbiamo collaborato dicendo ti portiamo un cliente per ogni cliente che ti portiamo ci dà il 5 per cento sta di fatto che questa azienda è cresciuta quindi da 20.000 euro al mese è passata 50 poi a 100.000 euro al mese poi a 200.000 euro al mese e così via fino ad arrivare a fatturare milioni di euro all'anno infatti in questa testimonianza che trovi pubblica su youtube di restaurare conviene parliamo proprio di questo caso studio arrivando a fatturare milioni e noi avevamo sempre il 5 per cento quindi solo con questa collaborazione noi siamo arrivati a generare centinaia di migliaia di euro di commissioni nette guadagnate senza investire un centesimo di tasca nostra ma semplicemente facendo da tramite delegando tutto il lavoro questa è stata la vera scoperta l'intermediazione quindi avevamo delle persone che seguivano la parte marketing noi avevamo preso la collaborazione e una volta presa non continuavamo a fare il lavoro perché perché la collaborazione era presa era già stato tutto impostato c'era qualcun altro che lo seguiva e noi percepivamo le commissioni facendo gli imprenditori ma senza i rischi del fare l'imprenditore capite adesso il concetto che ho spiegato nella prima live di ieri sera è questo i benefici del fare l'imprenditore ma senza fare l'imprenditore avere percentuali e guadagnare da più settori da più attività ma senza fare l'imprenditore senza i rischi del fare l'imprenditore io non so come si fanno le persiane non so come si lavora il legno ma guadagni una percentuale oggi ho guadagnato una percentuale ieri l'ho guadagnata l'anno scorso due anni fa ok questo è il concetto ma delegando tutto quanto ok questa è l'intermediazione ed è così scalabile l'ho detto anche all'inizio di questo di questa live che proprio per il fatto che sfrutti il tempo degli altri sfrutti le competenze degli altri e i soldi degli altri tu guadagni facendo semplicemente da tramite e quindi un'azienda se gli arriva del fatturato gli arrivano dei clienti è ben disposta a pagarti migliaia o decine di migliaia di euro perché non ti sta pagando di tasca sua sono soldi che grazie al tuo servizio ha guadagnato quindi perché mai non dovrebbe pagarti la percentuale che ti deve insomma è un po come per dire un imprenditore gli porti 100 mila euro di fatturato e gli chiedi il 10 per cento facciamo una domanda a qualsiasi persona se ti portassi 100 mila euro di fatturato saresti disposto a darmi il 5 il 10 per cento sì chi è che ti dice di no questo poi tra l'altro vi racconto questa cosa che ho scoperto che anche berlusconi ok utilizzava lo stesso meccanismo anche alla mediaset ovvero fino ad un certo punto chiedeva soldi alla mediaset ai clienti ve lo sto spiegando a modo mio per farvi capire il concetto poi se scrivete online sicuramente trovate in modo più approfondito quello che sto dicendo ma ho visto anche un l'ho visto in un reel su instagram che mi è apparso e ho detto cavolo ma è assurdo è la stessa cosa che faccio io in modo diverso ovviamente che facciamo noi sostanzialmente lui cosa faceva all'inizio chiedeva dei soldi alle aziende per fare la pubblicità in mediaset e le aziende a volte facevano storie no ma quanto mi stai chiedendo poi lui ha capito che poteva farsi pagare molto di più chiedendo una percentuale sulla base dei risultati che le aziende avevano facendo la pubblicità sulla sua tv su mediaset quindi ha detto fai così non mi pagare fai la pubblicità su mediaset una volta che ottieni i clienti poi mi dai una percentuale con questo la sua attività è cresciuta enormemente e questo è lo stesso concetto perché chiunque è disposto a darti una percentuale una fetta del suo fatturato se l'ha fatto grazie ad un servizio che le hai offerto tu ok questo è un po il concetto che era un po come il concetto della vendita perché se tu sei un venditore e porti del fatturato ad un'azienda vendendo quell'azienda ti dà una percentuale perché è stato pattuito così ma se non ci sei tu venditore l'azienda non riceve quel fatturato ok questo è un po il discorso comunque questo caso studio lo vedremo meglio lo approfondiamo e capiamo il come perché e il cosa e il perché che sono molto importanti di come facendo il freebooter postando dei semplici contenuti puoi guadagnare da questo meccanismo dall'intermediazione quindi del fare da tramite tra chi necessita di un servizio e chi invece lo offre postando un contenuto che ha creato qualcun altro perché è arrivato un cliente ad un'azienda ad un imprenditore e ti viene riconosciuta una percentuale ma non solo perché ci sono diverse formule di guadagno e poi le approfondiamo ok a qua ho messo una slide che per me è importante perché là fuori molto spesso si sente si sente si sentono persone che dicono io ti insegno a fare questo io ti insegno a fare l'altro e qui ho messo dei degli screen di instagram di post vecchi del 2018 2019 2020 per far capire che tutto ciò che dico io non lo dico per sentito dire come dicevo anche ieri non è che l'ho letto in un libro mi è piaciuto adesso ve lo sto riportando sono cose che ho vissuto io direttamente prima di mettermi davanti ad una videocamera e poter anche solo insegnare qualcosa a qualcuno dire qualcosa a qualcuno condividere una mia esperienza ho fatto un percorso non è che mi è venuta giù dal cielo l'informazione dico adesso lo condivido purtroppo questo non è sempre così perché online essendo che ormai ci vuole un attimo aprire un social e mettere un video anche su youtube è pieno di informazioni di gente che ha iniziato ieri a fare business e non capisce niente e ti dice ah guadagna investendo ma investendo cosa ok cioè vuoi fare investitore vuoi fare la persona che guadagna 5 10 mila euro online perché guadagnare 5 10 mila euro online se hai le informazioni giuste è semplice ma se ti metti a fare cose che non sono la tua portata rischi di perdere solamente soldi come ho fatto io e qua ho messo qualche immagine tipo questa qui con i libri io mi sono letto una marea di libri per poi arrivare a capire che non mi serviva essere un una persona piena di informazioni sulla crescita personale sulla mentalità su tutte queste cose non serviva a niente ok perché mi bastava apprendere un metodo per guadagnare applicarlo e ottenere risultati ok e qua ho messo un altro post per far capire un altro concetto ovvero io non è che sono un genio o sono super intelligente che dici ho guadagnato con questo business e sono riuscito ad arrivare a raggiungere risultati no io semplicemente ho sfruttato il modello di business giusto per ottenere risultati perché se a quest'ora fossi rimasto lì senza trovare l'attività giusta probabilmente sarei ancora lì a piangermi addosso a dire adesso come faccio perché sto perdendo solamente soldi ok non è che sono un genio oppure ho un mindset d'acciaio non mi è mai piaciuto usare il computer sono una persona che tutt'oggi se sta lì e si deve concentrare troppo sinceramente mi vado presto in confusione ok non mi piace concentrarmi troppo in qualcosa stare tante ore davanti al computer è una cosa che odio e non sopporto assolutamente ok questo è un po la mia filosofia e quindi a me serviva trovare un'attività come questa per ottenere risultati ok e qua ho messo un'immagine del 2018 con dei ragazzi con cui facevamo network marketing per dove parlavo di leadership in questo post e diciamo che pensavo che la crescita personale fosse un elemento importantissimo per ottenere risultati quando in realtà l'ho detto e lo ripeto lo ridirò ancora ok anche ai formatori che parlano di motivazione di crescita eccetera a te non serve formarti e crescere personalmente ti serve avere un modello giusto di business da applicare copia e incolla e ottenere i risultati non ti serve sapere chissà quante informazioni poche informazioni giuste per ottenere risultati e nel 2020 sono arrivati i miei veri risultati 2019 2020 infatti qua ero ad un evento e stavo parlando del del marketing online in questo evento qua nel 2019 2020 ho visto i veri risultati e poi arriviamo ad oggi che è diciamo che che vivo una vita che tu vedi tutti i giorni sui social ok che ho che viaggio tutto l'anno che vivo in giro per il mondo in jet che viaggio in jet privato che posso permettermi di comprare o guidare auto di lusso ok perché non perché ho schioccato le dita e arrivato giù il risultato dal cielo questo non è che puoi dire lo puoi ottenere in un mese no ma il fatto di generare 5 10k è un qualcosa che può fare chiunque con le giuste informazioni perché per tutti i motivi che abbiamo visto ieri sera ovvio che per arrivare a vivere una vita del genere io ho capito che non servivano chissà quanti soldi perché già con 5 10k in un mese la vita cambia completamente poi certo se vuoi il di più viaggiare in jet privato o fare determinate cose è ovvio che devi arrivare a uno step successivo e questo non dico che lo fai schioccando le dita ok però arrivare raggiungere 5 10k al mese è una cosa che può fare veramente chiunque qua vabbè ho messo altre immagini per far capire un po il concetto questo è un posto in cui vivo quando quando vado a dubai ok in diversi mesi dell'anno ed è un hotel dove un affitto costa abbastanza ok ed è una cosa che io prima neanche pensavo neanche sognavo di potermi permettere e perché ti sto dicendo tutto questo non per tirarmela a me non interessa essere qui con te a tirarmela e dire o a flexare dei miei risultati non mi interessa il mio obiettivo è farti capire che è possibile ok che è una cosa che io ho dovuto capire fortunatamente andando a lavoro ok vedendo gente che sentendomi umiliato vedendo persone che arrivavano a mangiare l'elicottero e chiedendomi perché io sono qui a servirle e loro invece sono qua che vengono servite e che possono permettersi questo ho capito i meccanismi che c'erano dietro e sono qui per dirti che è possibile è possibile vivere una vita del genere se sfrutti le informazioni giuste se sfrutti l'opportunità giusta alla tua portata ovvio poi arrivare ad avere il di più è un qualcosa che fai con un processo ok non è che ti dico domani inizia a fare intermediazione inizia a fare il freebooter viaggi in jet privato non sto dicendo questo sto dicendo che con la giusta opportunità e le giuste informazioni puoi arrivare a raggiungere dei risultati extraordinari perché sono l'elemento che fa la differenza tra chi ottiene e chi non ottiene i risultati qua ho scritto non serve una laurea serve un'abilità per ottenere risultati serve conoscenza non serve tanto tempo ne serve poco perché io so che molti dicono ma chissà quanti anni quanto tempo che ci metti prima di raggiungere certi risultati no se hai le informazioni giuste le applichi serve poco tempo la vita non è soltanto lavorare ma è anche godersela perché io penso che sia inutile guidare una porsche a 65 anni io voglio guidare la porsche a 25 anni a 20 anni non quando ormai la mia vita è finita ok è giusto anche godersela e questa è una cosa che è importante e secondo me sono come dicevo anche ieri dei paradigmi mentali che molti hanno installato installati all'interno della propria mente e quindi viaggiano un po con questi pensieri o ad esempio bisogna fare la gavetta prima di raggiungere certi risultati no non è vero perché se applichi le informazioni giuste apprendi da chi la gavetta l'ha già fatta puoi saltarti tutto quel pezzo in cui non ottiene i risultati quello che ho fatto io cioè io condividendoti queste informazioni ti do la possibilità di saltare tutto quello che ho dovuto passare io di compressare questo tempo e arrivare prima al risultato come dicevo ieri la differenza tra il saggio e lo stupido perché lo stupido si deve fare la gavetta per arrivare a capire certe cose e sbattere la testa da solo il saggio preferisce apprendere dagli errori degli altri e utilizzare un sentiero già tracciato da qualcun altro e raggiungere risultato apprendere questa abilità ti cambia la vita perché avere la conoscenza per generare determinati importi da zero ti cambia la vita una volta che lo sai e una volta che lo sai non puoi disimpararlo ciò che vedrai con me stasera domani sera dopo domani sera ti rimarrà qua dentro se lo segui attentamente e non lo guardi magari mentre che stai non lo so facendo altro oppure guardi e intanto è la mente che pensa ad altre cose ok quindi tutto ciò te l'ho fatto vedere per farti capire che è possibile che oggi non vivo questa vita perché mi è caduto qualcosa dal cielo perché ho trovato la giusta opportunità l'ho sfruttata per arrivare a raggiungere questi risultati nient'altro ok a me piace fare un esempio io non sono batman sono robin che guida la batmobile ok la batmobile è questo modello di business l'intermediazione io non ho delle doti sovrannaturali non è che sono super intelligente ho un quoziente intellettivo sopra la media ho fatto una scuola particolare ho fatto un sacco di errori ho buttato un sacco di soldi e non mi sono arreso non mi sono arreso perché a differenza di altre persone che magari si arrenderebbero più facilmente io avevo un motivo molto pesante nella mia vita che è stata una malattia altre persone invece si sarebbero bloccate prima io sono andato avanti finché non ho trovato la giusta opportunità l'ho sfruttato ho raggiunto il risultato e oggi sono qui a dirti come ho fatto e a darti la possibilità di saltarti tutto questo processo e di arrivare prima risultato evitando gli ostacoli questo è il discorso ok qua ho messo appunto a prendere questa abilità ti cambia la vita te l'ho detto il quadrante del cash flow questo descrive quello che ho iniziato a dire prima ovvero che l'ho estratto infatti l'ho scritto anche estratto dal libro di robert kiyosaki questa è una delle cose che a me ha aiutato a comprendere come funziona il mondo ok e sono sicuro che in qualche modo ti farà capire ulteriormente anche a te andare andando un po più nel profondo ovvero robert kiyosaki ha diviso il mondo in due parti il 95 per cento della popolazione a sinistra ok nel quadrante di sinistra dove c'è scritto d e a che sarebbe dipendente e sotto sarebbe libero professionista quindi il 95 per cento delle persone scambia il proprio tempo per denaro il dipendente come c'è scritto qua scambia il suo tempo per denaro e sforzo per il denaro se non lavora non viene pagato perché non ha imparato a pescare ma gli dà il pesce qualcun altro e si sfama grazie alle dipendenze di qualcun altro ok questo è un po il concetto perché non conosce come procacciarsi da solo quella risorsa che sono i soldi il secondo sarebbe il libero professionista il libero professionista che a me piace dire che si è costruito una gabbia d'oro perché magari guadagna invece che un dipendente che magari prende 3000 euro al mese 2000 euro al mese un libero professionista ne prende 3 4 5 6 7 però lavora molto di più di un dipendente ok invece a destra anzi vi leggo anche cosa c'è scritto qua se nei tuoi piani e sogni non c'è solo di guadagnare soldi ma anche avere una buona qualità di vita e tempo per i tuoi hobby e per la famiglia non lo puoi ottenere qui perché perché la produzione del denaro non dipende in questo caso dal tuo tempo cioè in questo caso dipende dal tuo tempo ok se la il modo di guadagnare non dipendesse dal tuo tempo avresti la possibilità di utilizzare il tuo tempo come vuoi questo è un po il concetto di base e a destra c'è libertà perché perché il titolare di impresa e l'investitore che cosa fa il titolare di impresa ai dipendenti che lavorano al posto suo ha costruito un sistema che lavora al posto suo perché ha investito soldi ha creato strutture ha un sacco di dipendenti che lavorano per lui e che gli portano modo per guadagnare ma non è lui che lavora ok ha costruito un sistema quanto tempo ci vuole ad esempio qui nel libro che poi la realtà dei fatti mediamente una persona per costruire una azienda e diventare titolare di impresa con 300 400 dipendenti minimo ci mette 20 anni ok 30 anni perché non è che è una cosa che fai così se parti da zero ok e lì hai tempo libero da goderti infatti ha un'azienda che gli permette di creare le sue entrate investe denaro per far crescere e mantenere l'attività e ha flessibilità e tempo libero questo è il titolare di impresa ok poi c'è l'investitore l'investitore cosa fa fa che il denaro lavori per lui gode della vera libertà ha uno stile di vita superiore al titolare di impresa perché lui l'investitore cosa fa tipo warren buffett mette i suoi soldi in qualcosa in un'azione quello che sia sale si prende quel profitto e se lo porta a casa ha semplicemente mosso del denaro questo è quello che fa l'investitore quindi capite quanto e qua c'è l'un per cento della popolazione stiamo stiamo vedendo che il 95 per cento è a sinistra dove c'è di ea e il 5 per cento è a destra il 4 per cento fa parte dei titolari di impresa l'un per cento fa parte degli investitori ok non è semplice arrivarci per questo che ieri sera mi veniva quasi da ridere a pensare che ci siano persone che dicono investi soldi ma voi sapete chi è l'investitore sapete chi veramente può muovere il denaro e guadagnare del denaro non è chi ha qualche soldo sul conto in banca è chi veramente può farlo ok chi ha veramente tanti soldi e infatti c'è scritto in questi due quadranti ok in questo quadrante di destra non sei tu che produci il denaro ma la tua attività godi della libertà che desideri perché la produzione del denaro non dipende più dal tuo tempo ok mentre nel quadrante di sinistra di ea la produzione del denaro dipende dal tuo tempo che è limitato ok e non puoi con il tuo tempo guadagnare chissà quanti soldi se non sfrutti l'opportunità giusta come quella dell'intermediazione infatti a me piace dire come in questa slide grazie al freebooting grazie all'intermediazione tu ti ritrovi a saltare quel processo di passare da dipendente libero professionista titolare di impresa che è una cosa che mediamente quanto ci vuole 20 anni per diventare un titolare di impresa è una cosa per tutti è pieno di aziende con 500 dipendenti e imprenditori multimilionari no ok non è una cosa per tutti grazie all'intermediazione tu salti tutta questa parte arrivi direttamente a vivere come un titolare di impresa e come un investitore perché sfrutti il tempo degli altri sfrutti le competenze degli altri a tuo vantaggio senza utilizzare le tue e senza utilizzare soldi ok metti a leva anche il tempo degli altri non sfrutti solo il tuo capisci perché è questo il concetto in questi due quadranti non sei tu che produci il denaro come ho detto prima ma la tua attività godi della libertà che desideri perché la produzione del denaro non dipende più dal tuo tempo ok questo è un po il concetto di base quindi abbiamo visto dei tasselli importantissimi perché se non aveste capito ciò che ci sta dietro le informazioni che stanno dietro a questa attività all'intermediazione a quello che ho fatto io prima di arrivare a scoprire tutto ciò non avreste capito nulla domani sera perché domani sera andremo a vedere nel vivo ok ci metteremo proprio le mani e capiremo come si fa l'attività del freebooter come si guadagna facendo il freebooter chi ci paga chi è che ci dà i soldi come ce li dà e come fa a darceli in automatico come fanno a pagarci senza neanche che noi contattiamo o parliamo con qualcuno facendo tutto in automatico utilizzando i contenuti di qualcun altro e postandoli semplicemente sui social come è possibile domani sera lo vedremo e vedremo anche il caso studio che hai visto prima restaurare conviene ti spiegherò il retroscena di quel caso studio e di altri casi studio di come abbiamo guadagnato facendo da intermediari semplicemente ti spiegherò tutti i casi studio in retroscena e di come puoi farlo anche tu da dopo domani mattina perché avrai le informazioni necessarie per mettere in atto tutto ciò perché saprai cosa fare quando farlo con chi farlo perché farlo perché ti pagano come ti pagano e perché arrivano direttamente da te le persone sai che per fare l'intermediario devi fare da tramite tra chi necessita di un servizio chi lo offre vedremo come è possibile che siano le persone che hanno necessità di un servizio a venire da te e a metterle in contatto con chi offre il servizio senza neanche parlarci senza metterci la faccia in modo automatico capiremo quali sono le formule di guadagno del freebooting da dove arrivano i soldi chi ci paga e perché ci paga ok e lo vedremo domani sera ripeto di modo che prendendo di queste informazioni dall'indomani mattina avrai la possibilità di fare questa attività avendo le informazioni giuste ok quindi per questa sera è tutto vi auguro buonanotte o buona serata ok e direi che sono state due sere molto intense anche abbastanza brevi questa sera è durata meno di ieri sera ma sono state piene di concetti che per tanti di voi possono sembrare banali ma sono il fulcro ed è la differenza tra chi ottiene e chi non ottiene risultati e sono ciò che vi serviva prima di prendervi le informazioni di che cos'è il freebooting e di del perché si fa il freebooter e di come si guadagna facendo il freebooter e del perché un'opportunità incredibile sia per chi ci paga sia per noi che veniamo pagati ok quindi per questa sera è tutto buonanotte a domani Grazie 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 Grazie